Poche emozioni, più sbadigli che occasioni insomma nel pomeriggio del Torre di Pagani. Finisce 0-0 tra Gelbison e Picerno, non sanno vincere fuori casa i Lucani e non riescono a sfatare il tabù. Anche nella quindicesima giornata di Serie C, ma conquistano comunque un punto molto prezioso in chiave salvezza contro la squadra di Valo della Lucania, che vale il quarto risultato utile consecutivo per il collettivo di Emilio Longo. Pare insomma tutt'altro che da disprezzare al cospetto di un collettivo che si conferma invece in piena zona playoff. Padroni di casa pericolosi in avvio con Kierre Mateng, Crespi, il grande protagonista della partita, fa buona guardia sul primo palo e riesce a deviare in corner. La replica del Picerno, sceso in campo in maglia bianca, arriva sui sviluppi di un calcio d'angolo. Nulla di fatto. Gioca in maniera ordinata la squadra ospite, copre bene gli spazi e interpreta la contessa con buona personalità, non solo preoccupandosi della fase difensiva. Prima della mezz'ora cerca il gol d'autore a Reginaldo con una sventola di prima intenzione, mira tuttavia imprecisa. Poi l'episodio del rigore è la migliore chance dell'intera partita in favore della Gelbison. Dal dischetto si presenta Capitano Uriano che però deve fare i conti con la replica superlativa di Crespi. Si resta sullo 0-0. Intervallo. La ripresa si apre con un Picerno più coraggioso. Reginaldo dalla distanza impegna ma non più di tanto d'Agostino. Dalla parte opposta non è impeccabile questa volta Crespi sulla conclusione di Kierre Mateng ma se la cava comunque. Ci prova il Picerno con Diop incornata sul fondo. Ci riprova questa volta sugli sviluppi di un corner l'attaccante degli ospiti. Colpo di testa neutralizzato facilmente da D'Agostino. Altro giro, altro corner, destro secco del nuovo entrato. Golfo palla sul fondo ad un quarto d'ora dal termine. È l'ultima occasione di fatto di un match tutt'altro che scoppiettante. Finisce 0-0 a Pagani, un punto a testa per le due contendenti. Diventano così 15 quelli del Picerno che mercoledì prossimo nel turno infrasettimanale ospiterà il Monterosi fischio di inizio al Donato Curcio previsto alle ore 14.30.